Sono qui, è una bellissima giornata qui a Torino, è un po' diciamo nuvoloso, però c'è pure il sole, l'importante. Ci siamo visti l'ultima volta al Maradona, adesso siamo allo Stadio Olimpico Grande Torino, spero che la situazione sia migliorata o è sempre la stessa? No, purtroppo è sempre la stessa e faccio sempre l'appello appunto al Presidente, io sono innocente, non li conoscivo, poi faccio a lei Presidente, non so cosa gli hanno raccontato, io più di questo non posso. Cioè vado in trasferta e niente, spero di entrare al San Paolo, qua c'è il Maradona. Tra l'altro appunto tu sei venuto qui per l'ennesima trasferta, tra l'altro ciò fa capire quanto ci tieni a Napoli, a tutta la squadra, in primi si chiede un pronostico? No, pronostici non li faccio. Ogni volta te lo chiedo per provare a estorciarmi? No, 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 non li faccio i pronostici. Una cosa ti aspetti però. Aspetto la prestazione del Napoli come si è giocato il Napoli e voglio fare un appello però a molti tifosi del Napoli. Voi, perché molti sentono, voi non avete capito l'importanza che il Napoli sta facendo quest'anno. Cioè noi stiamo cercando, cercando di vincere questo Benedetto Scudetto dopo 30, 32 anni, 33 anni, e ci stiamo riuscendo. Voi state pensando alla Champions League, il Milan. Cioè, voi non vi rendete conto il momento che stiamo vivendo e la gioia che ci stanno dando questi ragazzi. Perciò pensiamo al campionato. Poi la Champions è tutto uno sfizio. Cioè, io sento parlare, il Milan, dobbiamo, andiamo in finale, andiamo a fare, ma che state dicendo? Pensiamo allo Scudetto. Sì, ma non lo Scudetto, ma prendete conto o no? Non mi siete nezzocuro. Se a Napoli non mi siete ancora... E perché pensate che è troppo facile la cosa? Non è facile niente. Forza grande Napoli. Ma l'ultimissime, un pensiero su quanto è accaduto mercoledì, e se tu che sei più addentro, ovviamente, ai tifosi rispetto a noi, queste voci da tutto sport che ha scritto oggi, tifosi dell'Eintracht, potrebbero arrivare a Torino, tu sai niente, rassicuriamo... Allora, io non so nulla, non so nulla. Quindi ci rassicuri, perché già se non sei nulla... Non so niente, cioè a livello non ho sentito proprio niente. Già una rassicurazione. No, ma a parte, ma io posso dire un'altra cosa. A Francoforte, io sono stato quattro giorni nelle due piazze di Francoforte importanti, ma non è successo niente. Proprio da sicure da qualche altra parte si era stata, sai, qualche scaramuglio così, qualche battibecco. Ma più a Trebisondo, per esempio, io ho avuto un'aggressione, più a Zurico ho avuto l'aggressione, più a Bratislava ho avuto l'aggressione, ma proprio c'è a Stoccolma. Ma a Francoforte, boh, hanno creato un film proprio ad arte e poi a fare il divieto ai diffusi, dopo che avevano notato aeree, alberghe e roba. Ma penso non è neanche giusto, perché logicamente, cioè immaginate un ragazzo che lavora a 100 euro a settimana, a 200 euro a settimana deve spendere 500, 600 e poi non può andare a vedere la partita. E non viene neanche rimborsato. Il discorso è qui. Allora, per me, bastava fargli entrare. Secondo me tutto sto casino non succedeva, secondo me. Grazie mille, buona partita. Forza grande Napoli, ragazzi. E pensiamo allo scudetto. Grande!